Vai! Allora, ci siamo fatti tutta la serie degli ascensori, per una volta che andiamo tutte e due insieme. Perché non vai prima, tu sei più grande! Prima tu! Prima tu! Prima tu! Prima tu! Tu sei più grande! Chi ha più figli? Chi ha una moglie e un figlio? Ma perché se hai figli vuol dire che non hai una moglie? Vai prima tu! Prima tu! Prima tu! Andiamo tutti e due insieme! Ecco, io lo sapevo, ci siamo incastrati! Ho la soluzione! Dai! Eeeh! Egoista! Schifoso! Prego! Prego! Ah, Gesù Giuseppe Santana! Adesso basta! Ma perché questo sale sempre? Una volta che non sali mai, oggi devi salire! Stai chiamando a noi! Andiamo! Buongiorno direttore, che succede? Mi sto scherzando direttore! Veramente! Le vogliamo tanto bene direttore! Un mese di vacanza! Un mese di vacanza! Un mese di vacanza! Un mese di vacanza! YAH! E vai! Un mese di vacanza! Un mese di vacanza! Un mese di vacanza! Un mese di vacanza! Ego! Fatti fare una foto! Io penso nei miei occhiali! Sti cazzi! Fatti fare una foto! Vai! E... Tacco! Perfetto! Guarda là che... Che macchinetta! Fami la foto con gli occhiali! Gli occhiali così! TAC! Che fai al volo? E' vero! Faccio così! Aspetta, mi si è tolto la... TAC! Un altro più sexy! Vai cantini! TAC! Ohhhh! Ti offro un caffè, io te l'offro! Io! Cacchio, mi è caduta la moneta! Fare un nonnetto questo fiamma! Eh? Fare un nonnetto questo fiamma! Infatti si! Ma è una fastidio! Grazie mille! Già, sai! Fammi una foto con il caffè! Ohhhh! Così vedi? TAC! Ohhhh! Perfetto! Una da solo! Sezi! TAC! Ohhhh! Ma hai già pensato a tutto! Tutto? Proprio tutto! Anche a dove andare! Dove? Alla malaparte! Dove? Alla malaparte! E' mai venuto di noi! Alla malaparte! Ecco! E poi! E' di comprensione! Sapevo che a questo momento veniva e ho preparato una cosa! Che cosa? Questa è l'ora! Ta-daaaah! La sessionale? Si! Vamos a capire! Beh.. non è che... Tuto qui? Non puoi scadare questa chitarra di bene? E' un po' prosta, dai Sì, io vado a fare Io vado alla recezione Vado a prendere i biglietti per le valtine Vado a fare i biglietti Oh, è straperfetto Vai, vai, vai Oh, è straperfetto Un mese di vacanza 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Ragazzi i biglietti Un mese di biglietti Guarda specchio, guarda Maldive però un mese 640 euro Marciano come andai? 640 euro Eh, guarda, 640 euro Veramente è il direttore che deve pagare Meglio ancora! Perfetto Si va? Mi faccio un caffè Ultimo caffè Prima di partire Che se no ci addormentiamo in aerea Non mi viene da addormentarne Oh, vai, vai, questo caffè per l'amore Perfetto Oh, attento Non funziona mai la calcolatrice Straperfetto Prima di partire Pronto? Pronto? Macchinetta? Aspetta un attimo per mettere gli occhiali Si, macchinetta, tieni Biglietti li prendo io Metti tu, ricordo il telefono Si, la chitarra La chitarra La chitarra Ci manca, manca qualcosa? Prima di partire Andiamo all'ascensore Da Chitarra Qualcosa? Qua, ora Tutto a posto Manca Dentro, dentro E manca il peluche Manca E che cos'è? Si parte Prima tu Prima tu Prima tu Si pure Andiamo tutti Andiamo Andiamo Lanca, 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 lanca Buonasmo Ma perché l'abbiamo fatta queste vacanze? Ma perché l'abbiamo fatta queste vacanze? L'hanno messo per morire Ah, biglietti Via Biglietti puoi pure mutarli al fuoco Tanto non servono più Dov'è? Dov'è il tasto? Mi serve un caffè No, te lo fai da solo Mi serve un caffè Non ci arriva, non ci arriva Anche io ho sonno senza che ti butti Non c'è la faccia più Ehi, franghi Ehi Ti aiuti? Si, si, super Grazie Non ho le forze neanche per andare al bagno Adesso ti aiuto a te Ti prego Adesso ti aiuto a te Non ho bisogna più farlo Adesso ti arriva Adesso ti aiuto Adesso ti aiuto Adesso, adesso 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 Ti aspetta qua, ti aspetta. Ti aspetta qua. Ti aspetta qua. Direttore! Le vacanze ci hanno distrutto! Ho parlato con il direttore. Mi ha detto che... Aiutami. Queste funzioni le uniche vacanze. No. Ce ne darà altre. Io non le farò. Vieni a vedere tutti i ricordi che ho fatto con la macchinetta. Almeno alzati. Alzati Lazzaro e cammina. Guarda tutti i ricordi. La nostra camera. Che bella piondina di chi è? Le prostitute che abbiamo trovato in giro. Il concerto che mi hanno fatto fare con i Bingo Floyd. Eh, certo. Guarda la mia PlayStation 4, guardala. Veramente? No, non si è rotta la macchina. Oh, ma cacchia. Le sciapote non disponibili. Quanti ricordi? Io non farò mai più una vacanza in vita mia. Dopo tutti questi giorni d'amore pensavo che avere una vacanza in l'assante mi ha distrutto. Questa giungla mi distrugge. E' un po' di più. Ma adesso devo arrivare a girare le gocciole. Pubblicità di Vicenti. Guardate quel bicchiere della faccia. Guarda qua. I nostri biglietti. Maldive. Un mese. 640 euro. Guarda qua. Maldive. Un mese. 640 euro. Maledizione. Maledizione. Maldive. Un mese. 640 euro. Un mese. Un mese. Non posso continuare a fare le pormesi così. Non c'è piu'. Basta. Io torno a casa. Spraffa. Non so che fa ma... Io torno a casa. Prima tu. Prima tu. Prima tu. Prima tu. Tutta la scalinata dell'ascensore. Ci siamo fatti per parlare che andavamo prima una volta che andiamo con l'ascensore. Vai prima tu sei il più grande. La scalinata dell'ascensore. La scalinata dell'ascensore. L'ho saputo.